La Chiesa ascolta il grido delle comunità di tutto il mondo danneggiate dalle attività minerarie. Lo fa da tempo attraverso i documenti delle Chiese locali che hanno denunciato la violazione dei diritti umani, l'illegalità, la violenza e lo sfruttamento dei giacimenti in modo inquinante o problematico per la sicurezza alimentare locale. E oggi lo fa anche attraverso Papa Francesco che ha incoraggiato l'organizzazione di un incontro la scorsa settimana a Roma di una trentina di rappresentanti di comunità colpite dalle attività estrative promosso dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e dalla rete latinoamericana Iglesias e Mineria. Ascoltando il grido per i terreni perduti, per l'estrazione di ricchezze dal suolo che paradossalmente non ha prodotto ricchezza per le popolazioni locali rimaste povere, scrive il Papa nel messaggio inviato al Cardinal Tarkson, Presidente di Giustizia e Pace, per l'inquinamento delle acque e dell'aria dei suoli, l'intero settore minerario è chiamato a compiere un radicale cambiamento di paradigma per migliorare la situazione in molti paesi. La testimonianza di padre Dario Bossi tra i promotori di Iglesias e Mineria e di una rappresentante di una comunità brasiliana. Abbiamo impatti sull'acqua, la contaminazione dell'acqua e quindi ha cascato tutto ciò che questo provoca, impatti sui territori, espulsione di comunità e famiglie per lasciare spazio alle miniere. Dobbiamo anche pensare che non si tratta solo dell'impatto nella regione della miniera, ma di tutto il sistema anche per esportare questi prodotti. Quindi abbiamo immense ferrovie come la nostra nel nord del Brasile, la ferrovia di Carajas o altri sistemi o addirittura il problema dei minerodotti che consumano quantità impressionanti di acqua che serve solo per trasportare il minerale. Il progetto passa non soltanto per la mia comunità ma per vari altri municipi e a effetti in 12 stati, coinvolgendo pertanto 37 municipi di varie comunità. In quanto è stato realizzato un minerodotto che usa l'acqua e una condotta forzata che impoverisce l'acqua, provocando anche un processo di desertificazione e salinizzazione che ha conseguenze sull'acqua non soltanto a livello locale e che colpiscono più di uno stato e anche vari municipi. Organizzazioni come Iglesias e Mineria denunciano le pesanti conseguenze dello sfruttamento dei terreni delle comunità e la graduale perdita di lavoro quando le multinazionali aprono le miniere. Chi cerca di reagire subisce spesso violenze e intimidazioni come è accaduto a Eritier della Repubblica Democratica del Congo, ricca di giacimenti minerari d'oro e diamanti che hanno causato una guerra con oltre 3 milioni di vittime. La sua testimonianza è la denuncia del Cardinal Torxon. Abbiamo perso il lavoro all'arrivo di una società e questa società che si chiama Kibali Gold Mining ha acquistato tutte le terre e a causa di questo abbiamo perso il nostro lavoro. Hanno anche rifiutato di darci lavoro invece di assumerci, ce l'hanno rifiutato. Abbiamo chiesto di darci un po' di terra da lavorare, ce l'hanno rifiutata ugualmente. Per questo abbiamo fatto marce, abbiamo fatto picchetti per bloccare la strada. Poi sono arrivati i militari, ci hanno preso, mi hanno buttato nel fuoco e Dio mi ha salvato dal fuoco, ne sono uscito. I responsabili sono diversi, gli investitori stessi, imprenditori, banche, politici e governanti dei paesi dove si trovano i giacimenti oppure dei paesi dove risiedono i quartieri generali delle multinazionali minerali. Dell'altra parte, nei paesi sfruttati e poveri, ci vuole la, innanzitutto, governi integri, genti educati e investitori con senso acuto di giustizia e di bene comune, poiché è moralmente inaccettabile, politicamente pericoloso, ambientalmente insostenibile ed economicamente ingiustificabile che i popoli in via di sviluppo continuino ad alimentare e lo sviluppo dei paesi più ricchi appresso del loro presente e del loro futuro. Papa Francesco, nel suo messaggio, chiede ai governi dei paesi di origine delle multinazionali e di quelli in cui esse operano, agli operai e consumatori delle merci realizzate con i minerali estratti, di adottare comportamenti ispirati al fatto che costituiamo un'unica famiglia umana e che tutto è in relazione, come scrive nell'Enciclica Laudato Si. Padre Bossi spiega l'origine della rete ecumenica Iglesia Simineria e le sue proposte per un cambiamento di paradigma economico. È nato perché ci giungevano da varie parti delle richieste di aiuto, soprattutto rispetto alla criminalizzazione, all'isolamento e all'attacco contro leader comunitari a causa delle posizioni coraggiose che loro assumevano nel difendere la comunità contro gli impatti minerari. Comunità isolate che soffrono l'aggressione da parte delle imprese, ma anche da parte dello Stato in molti paesi. Recentemente in Perù abbiamo dei conflitti serissimi, per esempio, in questo senso. La necessità quindi di far vedere dal basso, ma anche in un'articolazione con la chiesa istituzionale, che esiste un meccanismo di difesa di queste comunità e anche un meccanismo che propone una società, un'economia alternativa per loro. Questo è essenziale. Per esempio, l'economia agricola familiare, che ha ancora delle prospettive enormi, oppure l'investimento industriale anche e tecnologico nei paesi del sud del mondo direzionato alla produzione e allo sfruttamento di energie alternative. Le proposte della giornata di riflessione delle comunità vittime delle attività minerarie verranno portate al secondo incontro di dirigenti e rappresentanti di compagnie minerarie con il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, previsto il 17 settembre a Roma dal titolo Create un nuovo futuro reimmaginando il futuro dell'attività mineraria.